Mentre stanno arrivando gli ultimi, se ce ne sono ancora, sappiamo come va la giornata. C'è un giornalista, cioè una persona il cui unico privilegio è quello di fare domande e non importa se sono intelligenti o stupide, noi possiamo fare qualunque genere di domanda. Poi c'è un filosofo che deve per forza fare domande intelligenti e alla fine sappiamo che ci sono le domande degli studenti che sono quelle che ci terrorizzano di più e quindi avremo circa un quarto d'ora per questo. Il tema lo sapete, io credo che non stia arrivando più nessuno, quindi cominciamo. Pochi minuti per non levare il tempo a Luciano Floridi, ma visto che siamo a Torino è bene che ci ricordiamo come facevano alla Fiat ad assumere quando assumevano migliaia di persone. Se è vero quello che la documentazione ci riporta, per assumere molte persone che venivano da città, paesi diversi, luoghi molto lontani dell'Italia, una delle verifiche che facevano era chiamare il parroco del paese da dove veniva il candidato per essere assunto a fare l'operaio alla Fiat a Torino. Il parroco era una persona che sapeva se quello che cercava di andare a lavorare alla Fiat era affidabile, era onorato, aveva il parroco un enorme potere. Ovviamente adesso non c'è più una Fiat che assume migliaia di persone da posti sconosciuti, però ci troviamo spesso nella condizione di incontrare persone che non conosciamo. Non ci rivolgiamo più al parroco. Tipicamente cerchiamo su Google. Quello che era il potere del parroco in questo momento è, senz'altro, riconosciamolo, il potere di Google. Dov'è l'onorabilità delle persone, la dignità delle persone, l'informazione sulle persone, l'immagine delle persone, la identità delle persone, la prima maschera delle persone è la maschera del search di Google. O almeno così succede in un sacco di situazioni. Non è certo una questione di alta filosofia, è una pratica. Però porta a domande molto importanti e controverse. Come sapete stiamo attraversando un'epoca nella quale tutto quello che sappiamo e registriamo viene messo da parte in qualche modo in digitale. Secondo Martin Hilbert, che ha studiato questa roba all'Università di California, nel 2000 il 25% di ciò che della conoscenza registrata dell'umanità, quelli sono americani, fanno delle statistiche meravigliose, era in formato digitale. Il 25%. Nel 2013, secondo Hilbert, è il 98%. Quindi in questi 13 anni la conoscenza è passata dal 75% in carta, plastica, supporti magnetici di ogni genere, è diventata al 98% sul supporto digitale. Questo è un cambiamento importante, perché il supporto digitale è facilmente elaborabile, memorizzabile, comunicabile, come sappiamo tutti. Noi siamo immersi in questo 98% di conoscenza che è diventato digitale e a quella cosa noi accediamo con degli strumenti dei quali non sappiamo più fare a meno e vi ringrazio se in questo momento non state già su Whatsapp. Perché se finisce la pila cominciamo a andare in fibrillazione, se non sappiamo dov'è l'amico o l'amica ci cominciamo ad andare in ansia. Questo oggetto, secondo la Corte Suprema degli Stati Uniti, vi taglio i particolari anche perché giuridicamente non li so dire bene, ma di fronte a una causa in tribunale per cui la polizia aveva fatto una perquisizione a una persona perquisendogli anche il telefonino, la Corte Suprema ha detto non si può perquisire il telefonino senza mandato perché è parte dell'anatomia umana. Ormai stiamo dicendoci che questa è una protesi, è parte del nostro corpo e noi con questa protesi siamo immersi in un ambiente nel quale tutto è arricchito da informazione. Ogni luogo si sta connettendo, e pensate cosa succede e sta per succedere, mettendo chip, sensori nelle macchine, nelle case, nelle strade, dappertutto, perché stiamo costruendo questa internet delle cose nella quale ogni oggetto è intelligentemente in qualche modo connesso a ogni altro per fare delle funzioni specie, e poi, tanto per raccontarci delle visioni che peraltro sono molto realistiche, l'automobile che guida da sola è un'automobile connessa nella quale i sensori, i computer, le connessioni in rete diventano fondamentali. Siamo immersi in questo sistema di informazioni digitalizzate che Luciano Floridi ha chiamato Infosfera e che ha consentito a Luciano Floridi di diventare il filosofo della informazione. Insegna a Oxford filosofia ed etica dell'informazione e di fronte a un caso che si è presentato l'anno scorso particolarmente controverso nella vita delle persone relativamente al tema della identità nell'infosfera è stato chiamato a occuparsene. Il caso era il fatto che il signor Mario Costeja Gonzales nel 2008 aveva un problema, la sua casa era stata messa all'asta perché non pagava dei debiti. E questo fatto era stato raccontato dall'Avanguardia, che è un giornale spagnolo. Poi lui ha pagato i debiti ma l'articolo dell'Avanguardia continuava ad apparire nella prima schermata di ogni search fatta su di lui su Google. Quando qualunque persona invece di andare dal parroco andava da Google a chiedere chi è Mario Costeja Gonzales tutti leggevano che è uno che non paga i debiti e quindi lui ce la menava un sacco. Ha chiesto all'Avanguardia di togliere l'articolo ha chiesto al Tribunale insomma la sua storia è diventata un caso significativo perché alla fine è arrivata la Corte Europea e la Corte Europea ha applicato a quel caso il cosiddetto diritto a essere dimenticati il diritto all'oblio in inglese è più bello diritto a essere dimenticati in Francia e in Italia si chiama diritto all'oblio insomma il diritto è fatto che se una cosa è passata e continua a incidere sulla tua identità digitale puoi fare qualche cosa. Adesso andiamo velocemente al punto perché non voglio perdere altro tempo ma il punto è questo se al posto del parroco oggi c'è Google e Google è una macchina che consegna alla nostra attenzione la prima maschera dell'identità delle persone quella maschera ha una responsabilità chi produce quella maschera ha una responsabilità se in quella identità ci sono delle cose che sono non false ma non tali da creare un'identità distorta della persona e quella persona vuole segnalarlo e chiedere che la sua identità venga ripristinata in un equilibrio giusto può chiedere a Google che la maschera della sua identità venga modificata sta togliendo il link alle notizie vecchie che è giusto che vengano dimenticate quindi lui nel 2008 aveva la casa eccetera cioè i debiti poi ha pagato i debiti poi è passato un sacco di tempo la sua storia continuava a essere definita dal fatto che non pagava i debiti molto tempo prima e poi li aveva pagati è riuscito con la Corte web a dire a Google di togliere il link a questa e quindi nella sua identità che adesso appare nella prima schermata non c'è più questo fatto che è vero ma che aggiungeva alla sua identità attuale di persona che paga i debiti la stigma la vergogna di non avere pagato i debiti una volta quella vergogna che noi sappiamo tutta la letteratura della vergogna ci racconta quanto sia un sentimento terribile infinito senza fine come un ergastolo tu sarai disonorato per sempre e ti vergogni di questo nell'identità digitale si è tradotta in questa storia del diritto all'oblio ma ovviamente se io posso togliere il legame il link che mi porta a quella notizia e la persona è protetta nella sua identità attuale è vero anche che facendo così chi vuole sapere qualche cosa sui debiti non pagati in Spagna non troverà più questo caso se uno vuole parlare di fatti che sono avvenuti realmente creando una storia della Spagna negli anni nei primi anni 2000 non troverà un sacco di informazione appena la UE ha detto che era giusto che Mario Costejo Gonzales che Google togliesse il legame a quella notizia nel primo giorno Google ha ricevuto 12.000 richieste analoghe di persone che volevano togliere il link alle notizie che li riguardavano se questo si generalizza noi non abbiamo più una search che trova le notizie che ci sono sulla rete ma una search che trova le notizie che ci sono sulla rete se le persone non le hanno chiesto di modificarle per creare una condizione di immagine diversa da quella che hanno adesso e quindi la libertà di espressione la libertà di ricerca la libertà di sapere come stanno le cose tutto sommato viene ad essere ridotta dalla protezione del diritto delle persone a fare in modo che venga dimenticato qualche cosa che è secondo loro giusto che venga dimenticato come vedete è un problema etico un problema politico un problema platico un problema di tecnologia Google ha avuto il compito di decidere da sola più o meno quali sono i casi sui quali deve applicare il diritto all'obbligo e quali deve valere il diritto all'espressione e altre cose e quindi si è rivolta a dei saggi tra i saggi c'era Luciano Floridi che ha raccontato la sua storia sul Guardian il percorso di questa ricerca che lui ha condotto insieme agli altri advisor su questo argomento così controverso difficile ma profondo che riguarda la nostra identità la nostra vita il modo in cui noi viviamo nell'infosfera e pensiamo agli altri a noi nell'infosfera lei ha raccontati sul Guardian con una serie di articoli e noi abbiamo la fortuna di sentirlo parlare a questo punto con l'esperienza fatta e la sua profonda conoscenza della filosofia dell'informazione di questo mondo arricchito dell'infosfera nel quale ci troviamo che è un passo secondo me importante per voi per me e per tutti per cominciare a pensare non più tanto al labirinto complicato nel quale ci troviamo ma una prospettiva culturale umana per uscirne Luciano va bene grazie come potrete forse controllare dai vostri telefonini non abbiamo molto tempo sono le ormai le 11.47 e siccome vorrei lasciare anche a voi la possibilità di fare qualche domanda se dovessi prendere il tempo che pensavo di prendermi potremmo stare qui fino a oggi pomeriggio quindi mi permetterete grazie anche al fatto che Luca ha anticipato molte delle cose che vi avrei dovuto dire in preparazione a alcuni commenti penso che mi permetterete insomma di essere un po' veloce su alcune cose che altrimenti avrei voluto analizzare con voi in maniera più attenta come vedete abbiamo un microfono qua davanti io non mi muoverò in modo tale da non dare fastidio ai nostri tecnici ma normalmente sarebbe più facile stare in piedi e dialogare con voi senza le luci che ci accecano alle mie spalle vedete un powerpoint e seguirò un po' la traccia di questo powerpoint più velocemente di quanto non avessi preventivato proprio perché vorrei cercare di lasciare il tempo a voi di fare qualche domanda c'è una premessa da fare la premessa è per chi di voi è stato portato o portata qui ob torto collo nel senso trascinata c'è santa miseria questa è proprio giovedì mattina alle 11 mi tocca stare qui a sentire questa roba ecco questa persona in genere non avrà una grande opinione della filosofia soprattutto poi se è stata esposta vedo alcuni volti un po' meno giovani alla filosofia liceale dove si fa storia su storia e probabilmente si succhia il sangue del cervello altrui una cosa schifosa che io non farei a nessuno insomma quelle cose da Indiana Jones quando arriva col teschio che c'è dentro della roba che bisogna mangiare ecco quella è la filosofia che noi facciamo al liceo perché ovviamente ci si insegna che non bisogna pensare con il proprio cervello bisogna succhiare le idee altrui farle proprie e poi quando uno le ha fatte proprie eventualmente rigurgitarle come proprie un lavoro che proprio voglio dire ecco siccome questa purtroppo è un po' la filosofia come viene vista dal liceale vi volevo rassicurare che questo non sarà quello che faremo oggi in realtà la filosofia è tutt'altro la filosofia è un modo per affrontare problemi che sono aperti aperti vuol dire che una volta che voi avete accumulato tutta la matematica che volete e tutti i fatti empirici che volete si può essere ancora in disaccordo cioè che se io e tu sappiamo benissimo quello di cui stiamo parlando e siamo razionali e vogliamo scambiarci le nostre opinioni eppure siamo ancora in disaccordo ecco quello è un problema aperto aperto al dialogo alla discussione e quindi al convincimento in quel problema aperto ci sono problemi aperti molto elementari organizziamo una festa sabato è un problema aperto elementare filosofico 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 stupido filosofico stupido ovviamente ma anche 2 più 2 è un problema matematico semplice sì stupido sì ma è matematico allora la matematica non si occupa di 2 più 2 la filosofia non si occupa della organizzazione della festa di sabato però la filosofia si occupa di problemi aperti come quello soltanto che si va un po' in escalation sono problemi che hanno conseguenze allora problema aperto ci si può mettere d'accordo hanno conseguenze che significa che se hai preso una decisione su quello c'è poi tutta una ricaduta di conseguenze che fanno una differenza su moltissimi altri problemi aperti allora far attenzione perché quello è un nodo vitale e lì si parla poi di problemi filosofici ed è lì si smette di succhiare il sangue ai poveri morti e si pensa con il proprio cervello sapere A o decantiano che noi insegniamo tra l'altro agli studenti per poi negargli l'opportunità di osare pensare al contempo ecco in questo contesto il problema dell'oblio è un problema aperto questo qualcuno ve lo avrà raccontato forse male ho avuto qualche giurista qualcuno che si occupa di legge dice ma no qual è il problema c'è la legge c'è una corte di giustizia europea ha detto così e così basta Google fa come gli è stato detto da parte della corte qual è il problema parte di quello che voglio dirvi oggi in questi 20 o 30 minuti a mia disposizione è farvi vedere perché è un problema aperto perché in quanto problema aperto è un problema aperto interessante non è aperto come facciamo una festa sabato ma è aperto come vi farò vedere cioè ha una serie di conseguenze fondamentali a cascata e in tutto questo ricordarvi e questa è la prima parte del PowerPoint che adesso vi mostrerò come ampliando la prospettiva questo poi si inserisca in una visione ancora più ampia del problema della memoria oggi che è un problema vecchio diciamo così è un problema che è stato con noi per moltissimi anni allora prima vi parlerò memorie che chiameremo memorie verdi non vi dico cosa sono se no voi vi addormentate allora le memorie verdi poi diventano memorie registrate e su questo già forse qualcuno c'era qui qualcosa qualche intuizione poi ci sono di queste memorie registrate alcune hanno valore molte sono del tutto inutili inclusi tutti i gatti che avete messo su Facebook quelle non sono importanti nonostante quello che pensi mia madre ci sono quindi poi le memorie problematiche quelle che sono verdi che hanno valore che sono registrate ma che creano anche problemi Luca ne ha appena accennato a una quella appunto del signore spagnolo e alcune di queste sono problematiche in un modo pesante sono quelle memorie che voi veramente non vorreste avere soprattutto tra qualche anno io vedo qua in prima fila una certa età giovanile ecco vi assicuro che tra un po' passa un decennio e non ne passano due ci sono certi ricordi che proprio uno vorrebbe non avere e soprattutto vorrebbe non far vedere per concludere quindi con una cosa un pochino più interessante ma è qui dove io vorrei lasciare la palla a voi in modo che voi non facciate a me quello che io non faccio ad altri non succhiate il mio cervello e quindi a voi la palla per discutere di identità perdono è quello che in inglese si chiama closure cioè chiusura quando si ha un problema ma su questo tra una ventina di minuti dovremmo arrivarci allora le memorie verdi qua partiamo da lontano da lontano 1929 no no lontano da Platone perché si riparte sempre dai greci cioè questo è il bello della filosofia è come un lastichetto tu ti allunghi ti allunghi e poi ta ritorni sempre dal greco e allora in questo qua perché Platone perché in questa frase famosissima qualcuno di voi non l'avrà incontrata ma vi assicuro che questo è come il biscottino di Proust nessuno è figo citando questa frase lo sanno tutti benissimo lo sanno tutti che il modo migliore per caratterizzare la tradizione filosofica europea è come una serie di note di commento a Platone cioè interessante c'è solo Platone io leggo Platone il resto ne segue ora lui esagerava tra l'altro Whitehead grande matematico grande filosofo grande logico scrive insieme a Russell i principi a matematica che sono il fondamento della logica contemporanea caso mai insomma vi pensaste che fosse un signore un po' antico rimbambito perché questo è importante perché vuol dire che se piccola equazione al volo se qualcuno sta già dormendo uno facciamo finta che la filosofia europea sia una grande nota a Platone due la filosofia di Platone la filosofia di Platone poi senza la filosofia della memoria è nulla anzi si potrebbe proprio semplificare diciamo che la filosofia di Platone è la filosofia della memoria che la filosofia europea è una lunga nota alla filosofia di Platone ne segue chi la filosofia europea è una lunga nota sul concetto di memoria Allora uno comincia ad arrezzarsi i capelli perché dice, oddio santo, allora qui la cosa è grossa. Perché abbiamo appena toccato uno dei nodi vitali. È come andare dal dentista quando arriva poi finalmente alla radice e senti quel zzzzzzzzz, ecco, quel zzzzzzzzz così. Quello lì è quando tocchi uno dei nodi vitali della propria cultura. La memoria, Platone, la filosofia che non la facciamo in questa parte del mondo, non è banale parlare di oblio. Perché queste memorie sono verdi? Termine tecnico paraculo di re Claudio, che sta dicendo a tutti gli altri, sebbene la memoria della morte di mio fratello, che purtroppo si chiama Amleto pure lui, perché non avete letto l'Amleto è una confusione totale, ma padre e figlio tutti e due Amleto, la morte di Amleto, e per cui adesso rovino la storia che è suo fratello, è ancora verde. E' verde, se la ricorda, attenzione qui ci sono tre memorie verdi, adesso ve le illustro nella prossima slide. Lui si ricorda che cosa? Si ricorda che il fratello è morto, ma si ricorda anche, e questo non ce lo dice, come è morto, ha ammazzato lui. E si ricorda questa verdità della memoria, è una verdità, non si dice così in italiano, del recuperare l'episodio. È una memoria dell'episodio, è una memoria che, una memoria come, una memoria di. E qui i filosofi ci aiutano. Si parla proprio così. La memoria si divide in filosofia, grossomodo in tre parti. C'è la memoria che qualcosa è accaduto, è morto Amlet, la memoria procedurale di come si va in bicicletta o come si ammazza un fratello, certe volte io pure, qualche tentazione. E poi c'è la memoria episodica, il fatto di essere stato lì, e che non è una memoria che è successo o di come è successo, ma che tu il cornetto l'hai mangiato. Ci siamo? Allora, non parliamo di cornetti, parliamo di questo oggetto, questo oggetto misterioso. Allora, questo è un oggetto che si chiama abakashi, in portoghese e brasiliano. Per un portoghese brasiliano, soprattutto per una portoghese brasiliana che è nata a Rio de Janeiro, un abakashi è un problema. Cioè, se tu mi dai una cosa del genere e tu mi hai dato un problema, c'è, ah, ma ci denti che abakashi che mi hai dato, perché questo non lo sai come maneggiare, me lo dai, c'è questo resto come lo prendi. Allora, per il brasiliano un abakashi è un problema spinoso. Però voi di questo problema spinoso potete avere tre memorie, che si chiama abakashi, quindi memoria semantica, procedurale su come maneggiarlo e del fatto che siete stati a Rio de Janeiro e avete assaggiato per la prima volta un ananas, e non ve lo scordate più, perché non ha nulla a che fare con quella cosa in barattolo che mi dava mia madre. Allora, abbiamo qualche idea adesso su queste memorie verdi. Molte di queste memorie sono registrate, ma non tutte le memorie registrate sono memorie di tipo che? Memorie semantiche. Cioè io vi posso registrare la memoria del fatto che sono stato a Rio de Janeiro e ho mangiato l'ananas, ma non vi posso passare a voi la memoria dell'evento. Vi posso passare la memoria del fatto che ci sono stato. Dice, ah, banale, semplice, no, no, questa è tutta un'altra cosa. In un film di fantascienza io passo a te le mie memorie di tipo procedurale, come andare in bicicletta, te lo passo e tu, boom, vai in bicicletta. E di tipo esperienziale, te lo passo e, pa, tu è come se fossi stato a Rio de Janeiro. In questo mondo, noi tutto quello che passiamo è il tipo numero uno, la memoria che. E di questa memoria che stiamo parlando qui, oggi. Ce n'è tanta. L'abbiamo appena sentito. Zilioni, gazilioni, barattoloni di memorie che si sta accumulando. Io adesso non so se voi riuscite a leggere fino lì giù. Ma qui, in questo angolino qua, vediamo se, ecco qui, c'è un 2009 che dice 0,8. Non fa niente se uno non sa cosa sono i zettabyte. Ci sono, dal giorno 0 al 2009, abbiamo creato come umanità su questo pianeta 0,8 zettabyte di memoria. Dal 2009 al 2020 questi zettabyte diventeranno 35. Alcuni dicono già 40, 45. Non fa nulla, perché se abbiamo anche sbagliato del 50% le previsioni, sono mostruosi in ogni caso. Questi zettabyte, tutta questa roba che si accumula, che va dalla conversazione su Skype, più dall'ultimo, scemenza che uno ha detto su Twitter, i gatti su Facebook. Questa qui, la sua crescita al momento non ha limiti. Perché la crescita, nella sua velocità, fa riferimento alla fisica, che non vedo perché debba smettere di funzionare, all'intelligenza umana che continua a produrre cose sempre più smart di giorno in giorno, e al supporto, a quanta roba c'è lì che vi permette di metterci la memoria sopra. E lì siamo messi un po' peggio. Ma tutta quella roba lì crescerà, crescerà in maniera esposenziale. Sicuramente nella generazione più giovane che c'è qui in sala, vedrà molti più zettabyte di quanti non abbiamo mai visti adesso. Allora, parte di questi zettabyte sono robaccia. Cose che non avremmo mai dovuto mettere lì, ma proprio letame. Però parte invece a valore. Allora, la memoria ha valore per tantissime ragioni. Io qua ho mantenuto l'inglese perché viene bene, perché si può usare sempre una parola con la R, che in italiano non mi riusciva, e quindi abbiate pazienza. Allora, la memoria ha un valore perché è non rival. Cioè non c'è rivalità tramite sulla memoria che io condivido. Non è come quella vacca sci che se te l'ho da te non ce l'ho io. Se io a te passo una memoria che sono stata a Rio de Janeiro, ce l'hai anche tu, ma io non l'ho dovuta abbandonare. Questo è un fatto importante, perché è importante ricordarselo. E apro una parentesina, poi la chiudiamo subito. Perché il petrolio, risorsa fondamentale della società precedente, quella industriale, non è non rival. Se ce l'hai tu non ce l'ho io. E' per questo che facciamo le guerre. Ci siamo? Mentre sulle informazioni potremmo non doverle fare le guerre, per ottenere l'informazione, perché te la posso dare senza perderla. O poi è rising, nel senso che cresce. L'abbiamo visto, cresce tanto, cresce sempre. O qui c'è un trucco. Nessuna risorsa di valore nell'universo cresce senza un costo da qualche altra parte. I costi da qualche parte ci saranno e ve li farò vedere. Poi è raffinabile. E questo è bello, si può migliorare, si può lavorare. È come se fosse malleabile. È rinnovabile. Cioè io posso aggiungere, migliorare, aggiornare. E poi la cosa magica è repurposable. Che vuol dire? Posso cambiare la natura della ragione per cui la sto utilizzando. Un'informazione acquisita per, ad esempio, avere dati sulla vostra carattere di credito, la posso riutilizzare per sapere dove stavate quel giorno. Allora, quindi la memoria ha un mucchio di valore. Io non so se qualcuno mi deve aiutare, se questo attrezzetto finalmente parte. Allora, la memoria ha valore perché? Quelli sono i valori che ha. Ma perché ci permette di migliorare le cose, di adattare le cose, ad esempio servizi e beni a voi che li volete acquistare. Di predire il futuro, senza memoria, senza informazione, io dove vado. Se non mi ricordo neanche la strada per andare al supermercato. Di simulare il futuro senza doverlo creare. Questo ormai, in laboratori di scienze, è ordinario. Se vuoi entrare nel laboratorio di biochimica a Oxford, ci sono più computer che topi. Ma nessuno lavora più sui topi. Ma c'è il DNA, professore. Ma le pare che adesso dobbiamo squartare il topo. Ma il topo da mucchio l'abbiamo perso di vista. A biochimica. E su che lavorate? Sul digitale. Vi permette di decidere. E questi sono dei grandi valori della memoria. E soprattutto qua il politico sbava subito. Innovazione. Crescita. GDP. Lavoro. Ecco. Ci rientra la memoria. Ora, queste non sono chiacchiere. Questa è la McKenzie che vi dice, e fate conto che abbiano sbagliato del 50%, scontate, malamente. Ma vi dice che i cosiddetti open data del governo americano, in generale, hanno la possibilità di rendere disponibile circa 3.2 trilioni di dollari, o 5.4, in valore economico, ogni anno. Su questi sette domini. O, quando si parla di trilioni di dollari, gli unici che capiscono qualcosa sono i generali americani, gli unici che gestiscono quelle epifere, noi no. Però sono tanti, proprio tantissimi. Ecco, voi vedete quindi che il valore di questi dati è enorme. E siccome è enorme, c'è tutto l'interesse ad acquisirli e a gestirli. Purtroppo questi dati però sono anche queste memorie, sono anche problematiche. Vi ricordate, questa era la quantità di memoria che avevamo, e vi ho detto, guardate che cresce e cresce sempre di più, come un pallone che si gonfia, si gonfia gratuitamente, non gratuitamente. Soltanto i cretini pensano che il valore cresca senza rischio, senza costo, senza lavoro. C'è un costo di acquisizione e di registrazione, questi dati da qualche parte devono stare. C'è poi un costo di usabilità, se i dati stanno lì ma voi non siete in grado, noi, la banca non li può raggiungere, quando ti servono non ce l'hai, beh, allora è inutile. Quindi mi serve una certa usabilità dei dati, altro costo. Poi questi dati devono essere sicuri, ora l'inglese ha queste due belle valorine che noi unifichiamo in sicurezza, ma security and safety lì stanno nella sicurezza del forno a microonde e nella sicurezza dei servizi di sicurezza, cioè c'ha due significati. E qui la sicurezza e la sicurezza safety, costi sempre, dollari che se ne vanno, poi devono essere accessibili. Dici, guardi, stanno lì, sono sicuri, sono altamente utilizzabili, purtroppo lei non li può accedere. Non va bene, altri costi. Poi, una volta che ce l'ho, bisogna anche lavorarli questi dati, non è che parlano da soli, nonostante le scemenze che qualcuno abbia detto sui big data, ma i big data non parlano, nessuno ha mai parlato. Le uniche cose che parlano sono i cervelli umani che li interrogano, l'analytics, altri costi. Tutto questo, come se non bastasse, arriva con ulteriori costi legati alla legislazione, all'etica. Insomma, alla fine di tutta questa bella lista, cosa ci trovate? I soliti dollari, tutto costa qualcosa. Allora, sì, una risorsa che cresce, ma cresce con i giusti costi ordinari che voi vi aspettate. Allora, perché sono problematici questi dati? Adesso ve la faccio un po' veloce perché non abbiamo molto tempo. E ve la lascio in inglese, ma ve lo spiego in italiano. Allora, da un punto di vista etico, tutti questi dati, queste masse di memorie, hanno delle strutture sensibili. E un po', vi ricordate, il nervo toccato dal dentista. A volte, quando voi andate a toccare delle strutture, dei patterns in questi dati, arrivate un po' troppo vicino a quella che è la privacy, detta in americano, dell'individuo. Poi ci sono questi patterns, possono essere costosi, e quindi qui i problemi ve li abbiamo fatti vedere. E poi, chi è che trae beneficio da questi dati? Da un punto di vista socio-politico. Ora, altri problemi dall'altra parte. Da un punto di vista politico, noi utilizziamo tutte queste memorie per la trasparenza. E da sempre, dai tempi della Grecia a oggi, la memoria serve per essere presentata e avere un momento di trasparenza con chi il potere lo ha dato ad altri. Quindi, trasparenza e responsabilità, nel senso di accountability, tu sei responsabile legalmente di quello che stai facendo, la memoria aiuta, i dati aiutano. Poi c'è un valore finanziario, anche qua è importante. Oggi si parla appunto di nuova economy, di innovazione, ma questa innovazione passa attraverso le panche dati. E infine, il valore sociale. Ma a me poi che mi rientra? Ma a fin dei conti non erano miei dati. Quella carta di credito, dove stavo, i miei viaggi. Ma tutto questo non posso riutilizzarlo ai fini di immettere di nuovo nella società un valore che appartiene alla società. Ecco, se voi prendete il dibattito sulla memoria pubblica, si agita in queste due sfere fatte di tre componenti ciascuna. Quindi se non ci capite niente è normale. Perché ogni giornalista, studioso, ricercatore, prende uno di questi elementi e ne fa poi una storia unica, dimenticando tutte le altre variabili. Ma le variabili sono tutte lì. E' come se uno gioca a scacchi e decidesse che in realtà tutto quello che si gioca a scacchi è re e pedone contro re e pedone. E' molto più complicata la cosa. Complicata. Bisogna studiare. Si può fare. Però far finta che non ci sia la complicazione, questo non aiuta. Beh, vi ricordate? Abbiamo fatto un po' una cavalcata un po' veloce. Vi dicevo, alcune di queste memorie problematiche sono pesanti. Sono memorie che noi avremmo voluto dimenticare. Qui, di nuovo, ci aiuta il solito Shakespeare. Abbiamo visto le memorie verdi. E queste sono le memorie invece pesanti. Di nuovo, qua con voce, da teatrale. Let us not burden our remembrances with a heaviness that's gone. Bellissima questa cosa. Non ci appesantiamo, no? Con dei ricordi, delle rimembranze, la cui pesantezza è ormai andata. Cioè è inutile che metti il dito nella piaga, si direbbe. È inutile che mi stai a ricordare tutte le cose brutte che sono successe. Andiamo, vai, vai, che il futuro è aperto. Questa apertura verso il futuro è quello che noi vogliamo dalla memoria. La memoria deve stare lì, ma non deve essere costantemente riportata a noi. Per fortuna qua, io mi riangancio a quello che Luca vi ha già spiegato. C'è un momento storico in cui tutta questa storia che vi ho raccontato arriva a un nodo. È un nodo piccolissimo. Se qualcuno pensa, ah, era un caso fondamentale, non so, Stati Uniti contro Russia. No, è un signore spagnolo che ha fatto una cosa di cui non fregava niente a nessuno su una rivista che non conosce nessuno per una faccenda di due appartamentini di cui non frega niente a nessuno. Va bene, proprio, sotto l'agenda non frega. Ci siamo? Preciso. E allora tutto questo casino sotto l'agenda non frega, come è successo? È successo perché, mutando una metafora che ho già utilizzato ieri, questo è il classico fiammifero nella polveriera. Il botto non l'ha fatto il fiammifero, di cui non frega niente a nessuno. È che dietro c'era tutta una polveriera che stava lì pronta a esplodere. Vi ho fatto vedere perché è un importante capire un po' in generale le memorie verdi, le memorie pesanti, Shakespeare, tutti qua. Cioè, ci sono elementi di preoccupazione. Il risultato che abbiamo ottenuto, grazie alla Corte Europea di Giustizia, è che, da allora a oggi, se un qualsiasi search engine, incluso soprattutto Google che domina in contrastato quasi completamente il search market in Europa, se voi chiedete a Google di avere un link rimosso a un'informazione che non vi piace, Google ha l'obbligo di prendere in considerazione quella richiesta. Le giustificazioni di questa rimozione, e vi ricordo, non è la rimozione dell'informazione, è la informazione del link che voi trovate sulla pagina di Google a quella informazione. L'informazione resta là. Date dalla Corte, sono la vaghezza fatta carne, e vi assicuro parla un filosofo, io di vaghezza ne ho vista, allora, inadeguate, e che vuol dire inadeguate? E tutto può essere adeguato o inadeguato a seconda del contesto, delle ragioni per cui lo pieni. Irrilevanti, vi assicuro, potete controllare Wikipedia subito, esiste una logica matematica che si chiama la logica della rilevanza, che non è in grado di dirvi che cosa sia la rilevanza. Potete pensare che se non lo sappiamo fare con quattro simboletti nella logica matematica, lo sappiamo fare in contesti di semantica, così complessi, no, ci vuole quello che vi dicevo prima, è un open problem, è un problema aperto, ci vuole l'intelligenza umana. O addirittura, bella distinzione, sono irrilevanti o non più rilevanti, l'anacaprina qua, però è importante, o addirittura esagerate. E qui che vuol dire esagerate? Insomma, qui non ci si capisce nulla, giustamente, perché se no il giudice si dovrebbe impiegare, impegnare su un fronte. Avendo lasciato praticamente questa bomba lì, tic toc, tic toc, tic, nelle mani del poveretto che la deve implementare, e da qualche parte non diceva, noi allora che facciamo? Questa decisione ha, abbiamo già visto, ha cercato di confermare il right to be forgotten, il diritto all'obbrio, non esiste il diritto all'obbrio, non esiste il right to be forgotten, sono, diciamo, delle accorciatoie per parlare di questo materiale, praticamente della possibilità che oggi ha un cittadino, una cittadina europea, di richiedere a un search engine, nella fatti space e google, di rimuovere un link. Vado veloce per queste cose, le abbiamo già sentite da parte di Google, e di Luca, quali sono i problemi, e questo non dovete essere in grado di leggerlo, per la ragione che vedrete tra un attimo, ci sono almeno una decina di problemi che questa piccola scintilla ha fatto esplodere. Allora, il primo è il grande contrasto tra privacy e freedom of speech, cioè tra quello che noi italiani chiamiamo la privacy e la libertà di espressione. Libertà di espressione di chi? Qui c'è una confusione che se leggete quello che la gente ci scrive sopra è pazzesca. La libertà di espressione non è del cittadino, è di Google. Google, in quanto agente, è libero di prendere o non prendere le informazioni legali online, come e quando vuole. La Corte ha detto no, non è così. Per salvaguardare la privacy del cittadino o della persona in questione. Qui il contrasto quindi tra queste due più fondamentali colonne della democrazia occidentale abbiamo scoperto che tanto d'accordo non vanno sempre. E vi assicuro che ci sono colleghi miei che ancora non l'hanno capita questa cosa. Che vi dicono che se sono dei principi fondamentali ergo vanno d'accordo. No. Analogia. Il sale e lo zucchero sono due elementi fondamentali nella cucina. Vanno d'accordo? No. Però sono fondamentali. Appunto. Dipende da quello che devi cucinare. Ma non è che siccome sono fondamentali allora vanno anche d'accordo. Non sequitor che soltanto purtroppo alcune teste un po' compose potrebbero avere in mente. Poi e vado veloce perché il tempo stringe. C'è un rapporto tra disponibilità e accessibilità dell'informazione. l'informazione resta disponibile sta là nessuno l'ha toccata. Ipocriti. Però non te la rendiamo disponibile facilmente così non la trovi tanto facilmente. Ah va bene. Allora io invece adesso l'informazione è rimasta però Google non me la fa trovare. Come la mettiamo insieme? Il problema del potere. Ieri abbiamo fatto una bellissima lezione all'università su questo tema. Ma oggi allora chi è che ha il vero potere in mano? La Corte di Giustizia che decide che Google deve essere messo nelle condizioni di decidere chi può e chi non può avere i propri links rimossi. Oppure Google che è stato adesso messo in questa posizione di potere ancora più rafforzata. Problema della territorialità. La territorialità del diritto per chi di voi se ne vorrà occupare in futuro è la seguente. Io lo chiamo un po' anche ieri abbiamo visto il problema dei tre moschettieri. I tre moschettieri finiscono con un assedio di scelie tutto bardato che fa la guerra perché ci dobbiamo ricordare che noi da cristiani ci siamo ammazzati e scannati per millenni quindi insomma non devi starsela a prendere poi con i vicini dall'altra parte del Mediterraneo facile fare le prediche quando uno allora mentre ci scannavamo intorno al 1600 e qualche cosa poi quando si rincontrano i tre moschettieri è avvenuta una cosa fondamentale è avvenuta la pace di Westfalia. La pace di Westfalia fa una cosa eccezionale bellissima decide cara legge e cara geografia mettetevi d'accordo la legge fino adesso ha dato una mano alla geografia stabilendo i bordi da oggi in poi la geografia dà una mano alla legge e dice alla legge tu puoi essere applicata all'interno di questi bordi quindi in Francia facciamo come i francesi e in Spagna facciamo come fanno gli spagnoli per semplificare spero che non ci siano storici nell'aula allora la territorialità è basata sulla geografia ma quella fisica quella che dove voi dovete passare col passaporto sul passaporto altra storia magari dopo ma su internet questa territorialità non c'è ora non vuol dire che non può essere ristabilita rinserita visionata ci inventiamo qualcosa però questo è un problema grosso e qui dibattiti su dibattiti magari ne parliamo durante la fase delle domande chi decide di queste richieste un software automaticamente un algoritmo o esseri umani al momento sono esseri umani io l'ho incontrati stanno qui e lì non sono proprio tenuto a dare troppi dettagli è gente come voi come me poveri ragazzi ragazzi usciti di università paralegals che si devono smazzare robe alte così cercando di capire perché o se questo link debba o non debba essere rimosso i software non servono meglio di no perché sono problemi aperti tutto questo si applica perché voi non siate una figura pubblica perché almeno su questo il legislatore è stato chiaro ha detto no le figure pubbliche non hanno diritto ad avere i link rimossi se voi siete un politico i link devono rimanere bene però se voi fate il filosofo subito il cavillo vi viene in mente e quando è che conta qualcuno come una figura pubblica fate finta voi domani siete eletti in comune tutto quello che veniva prima è figura pubblica no durante il periodo in cui siete al comune sì e tutto quello che viene dopo no quello che viene dopo no allora purtroppo questa figura pubblica non è qualcosa di normale va e viene e anche qua la dinamicità non aiuta poi queste informazioni devono essere di pubblico interesse c'è un rapporto che adesso vi racconterò tra pochino tempo permettendo tra la capacità di dimenticare e di perdonare che non va sottovlautata ma su questo arriverò in finale vi ricordate quando ho detto la rilevanza o il non più rilevante ma questo è un ginepraio quale pezzo di informazione vi ricordate questa è la filosofia che noi abbiamo iniziato a fare da Platone la filosofia europea una nota Platone eccetera allora se sono almeno 25 secoli di filosofia sulla memoria e noi non siamo arrivati a capire che cosa sia rilevante o irrilevante chi me lo dice se quella informazione lo è o non lo è bisogna vedere caso per caso non si può automatizzare purtroppo nel nostro report compromesso che io ho dovuto accettare abbiamo fatto passare una cosa atroce concettualmente evidentemente le unghie sulla lavagna nera ad un tempo lo scricchiolio atroce la rilevanza è una questione di tempo una bestemmia così non la dovrebbe dire nessuno come se una cosa molto antica è irrilevante una cosa molto recente è rilevantissima il che vuol dire che quello che io ho mangiato questa mattina per colazione è rilevante e che so le ragioni della seconda guerra mondiale è roba vecchia è rilevante è chiaro che la rilevanza e la storicità del fatto non sono proprio connessi non hanno nulla a che fare però a noi ci piace pensare che è passato lascia stare non ci torniamo sopra questa è la mentalità da bar dello sport con cui abbiamo affrontato questo argomento c'è un po' un problema molto spinoso del che cosa significa processare i dati sui quali non vi tedierò perché vedo qualcuno di voi ancora stanno già scapocciando dalla noia quindi andiamo oltre ma è un problema interessante tutti questi problemi e siamo arrivati al finale e ve li vorrei far vedere intorno a una questione che poi vorrei lasciare a voi per un po' di discussione il problema della memoria e quindi dei dati dei dati personali è stato impiantato dall'ottocento a oggi grosso modo in termini di filosofia dell'economia semplifico con una parola chiave possesso i miei dati sono miei nello stesso senso in cui la mia macchina è mia cioè io la posseggo ne sono il proprietario quindi una teoria della proprietà dei dati quello che noi stiamo via via vedendo e penso che le persone più giovani qui in sala lo troveranno abbastanza banale è che in realtà ci stiamo muovendo alla fine del novecento inizio del nuovo millennio verso una filosofia dei dati personali che non è più impiantata su una filosofia dell'economia ma è impiantata su una filosofia dell'identità quando dico i miei dati io non dico i miei dati come la mia macchina dico i miei dati come il mio cuore i miei capelli i miei occhi sono io non è che li posseggo fanno parte di me mi costituiscono allora quando tu me li porti via o me li cloni diciamo così perché non me li porti via vi ricordate non è rival non c'è rivalità ma tu stai clonando un pezzo di me allora quando tu entri nella mia privacy non stai entrando in una mia sfera fisica come se entrassi dentro casa mia proprietà ma stai entrando in realtà a far parte di me cioè tu è come se stessi inserendo nel mio corpo un anticorpo una qualcosa di nuovo qualcosa che non mi appartiene mi stai trasformando è una storia ben diversa quindi in realtà tutto questo discorso che abbiamo fatto oggi e ce ne sarebbe molti di più come potete immaginare va visto da una teoria dell'identità non da una teoria della proprietà poi ultima cosetta bisogna essere in grado di perdonare noi in Italia a perdonare siamo facili purtroppo quindi è una lezione di cui in Italia non c'è proprio bisogno se smettessimo di perdonare non faremmo un soldo di danno però nei paesi più protestanti il perdono è duro molto duro e non arriva facilmente se no non staremmo con i problemi che abbiamo in Irlanda del nord in Gran Bretagna il perdono però arriva più facilmente se la memoria degli screzzi dei danni delle violenze dei suprusi tra le due parti o tra le molte parti è a sue fatta cioè se noi in Palestina e nel nord dell'Irlanda non facciamo altro che insegnare alle nuove generazioni quanto sono stati stronzi gli altri e viceversa tutti risurgenti che non vedrà l'ora di mettere una bomba sotto il sedere degli altri tuttavia tu non puoi rimuovere la memoria del passato del dolore e questo sarebbe un danno ancora più alto cioè io appartengo a una generazione dove a noi siamo stati tirati su con il diritto non all'oblio ma il dovere alla memoria perché venivamo fuori dalla generazione precedente che era uscita dalla seconda era mondiale dai campi nazisti quindi un'ottica diversa ma qui ci vuole una forma di bilanciamento tra quanto si ricorda e quanto si dimentica allora il concetto di closure che io non so tradurre in italiano ma di chiusura quella cosa che noi abbiamo nei confronti del dolore ad esempio di aver perso qualcuno il gatto i genitori l'amico qualcosa dove tu non vuoi dimenticare cioè non è che ti vuoi dimenticare che papà è morto ci mancherebbe però non vuoi neanche alzarti tutte le mattine ricordarlo allora la chiusura è dire questo è avvenuto ce lo ricordiamo ma non lo riportiamo alla memoria costantemente quindi ricordare senza rinverdire la memoria di cui sopra questo è il trucco che noi non siamo ancora stati in grado di attuare nel digitale oggi il digitale rigurgita tutta la memoria cioè vi ricorda ogni giorno che papà è morto e devo dire la verità non è un bel piacere allora in questo contesto per cercare di chiudere e lasciare qualche minuto a voi sempre ammesso che il nostro computer gentilmente ecco un momento biblico non perché io sia religioso purtroppo no ma perché lo dice bene questo è Isaia l'Isaia non un'Isaia qualsiasi sta parlando a Israele e dice non ricordate più le cose passate non pensate più alle cose antiche basta ora quello che lui sta dicendo sta parlando dell'Esodo ora questo è Israele voi pensate per un momento che Isaia stia dicendo a Israele dimenticatevi l'Esodo ovviamente no quello che sta dicendo è mettetelo in chiusura tenetelo nella memoria ma non portatelo alla memoria ogni volta perché dobbiamo andare oltre e infatti continua dicendo ecco faccio una cosa nuova proprio ora germoglia verde verde come Shakespeare non ve ne accorgete aprirò anche nel deserto una strada e metterò fiumi nella steppa quindi è quello che c'è davanti il futuro che grazie al fatto che la memoria del passato è mantenuta ma non costantemente rivisitata si apre come possibilità ora questo bilanciamento che noi abbiamo messo abbiamo impiegato millenni nella storia occidentale per raggiungerlo lo abbiamo del tutto frantumato grazie alle tecnologie digitali è qui quindi che lo sforzo per voi è quello di ritrovarlo cioè di riuscire a ricostruire un bilanciamento intelligente tra quanto bisogna ricordare e quanto bisogna non rivisitare ciò che si ricorda affinché la memoria sia una sorta di punto di partenza del suo futuro e non una sorta di barriera affinché il futuro non avvenga e con questo io vorrei lasciare a voi qualche domanda che mi sembra stia già emergendo grazie 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 Luciano Floridi io non vedo se ci sono delle però insomma vi auto organizzerete io mi porterei a casa ogni parola senza dimenticarne neanche una ma perlomeno vorrei sottolineare quei passaggi nei quali Luciano ci sottolinea il fatto che non è che quando un problema è aperto richiede l'intervento umano noi siamo di fronte a questo percorso per cui tra automatizzazione delle decisioni tecnicismi giuridici labirinti concettuali come quelli che ci sono stati descritti cominciamo talvolta ad avere la tentazione di dire vabbè che ci pensi qualcosa in modo semplificato automatico tecnico e non e questo tende a diventare l'incubo del prossimo secolo se noi troviamo i luoghi mentali intellettuali e culturali nei quali è necessaria l'intervento umano la responsabilità umana stabiliamo una sorta di ecologia per il futuro dei media dell'infosfera nella quale abbiamo il nostro ruolo e non possiamo non prenderci le nostre responsabilità dal punto di vista etico Google ha chiesto a Luciano e ad altri una mano per uscire da questo problema perché si rendevano conto che era un problema umano e non automatico Luciano ha avuto una grandissima responsabilità nell'affrontare questi primi passi di Google nel nuovo mondo delle responsabilità umane e credo che questa prima breve riassunto della sua esperienza compresa la sofferenza di aver accettato che la rilevanza è collegata in maniera tecnica al tempo ci aiuta a capire quanto sarà complesso e importante che noi impariamo a pensare tutta questa cosa domande io avevo l'impressione che ci fosse da parte di una classe così mi era sottodetto delle domande adesso vedo è così? allora comincio io che ho già il microfono mi chiamo Roberto Dosio e come associazione GIC Forum ci occupiamo di tutela del cittadino io però non la vedo dove è? è vicino alla persona che gli ha portato allora parto dall'ultimo concetto fondamentale essenziale ecco che è un po' una sintesi perfetta di tutto il discorso cioè che noi dobbiamo fare memoria ma non attualizzare sempre la memoria rinverdendola ecco la mia domanda è che un po' diciamo in prospettiva abbiamo delle proposte operative e anche normative per arrivare a raggiungere questo obiettivo oppure in questo momento si tratta semplicemente di una riflessione filosofica e di un'aspirazione perché la tendenza molte volte è quella di riflettere ma poi di non passare al livello operativo ecco vorrei chiederle se in base alla sua esperienza possiamo in qualche modo come azione istituzionale e come associazione di tutela del cittadino fare una proposta nel senso che lei giustamente ha evidenziato aggiungo anche una domanda tecnica se io come cittadino facessi una richiesta a google c'è l'obbligo di risposta di google e se non considera la mia istanza quali sono le azioni concrete che io posso attuare concretamente terzo punto posso avere un interlocutore fisico con cui approfondire oppure ci troviamo come una grande multinazionale con cui non riusciamo a dialogare per cui viaggiamo solo via internet e se questa non ci risponde chi si è visto si è visto cioè quali sono le nostre reali tutele poi di interlocuzione con chi può decidere che sia il ragazzino che deve decidere sull'inco o meno o sia un responsabile che in qualche modo ha un genere decisionale ponderato se io devo prendere punti per poi dare risposte aspetti perché Luca suggerisce di prendere direzione ma la mia memoria è zero quindi adesso mi segno le tre risposte la prima era una questione sulla cosa tecnica qual'era la seconda domanda? delle possibilità di interlocuzioni reali nel momento in cui io faccio l'istanza se Google ha obbligo di risposta e se non risponde quali sono le mie azioni concrete se posso avere un interlocutore fisico dicevo se vogliamo raccogliere un po' di domande in modo che perché ne vedo già tre lì quattro e non vorrei cinque quindi non so Luciano facciamo tre alla volta però perlomeno ti fai un'idea anche perché sottolineo e poi potete fare tutte le domande che volete qui abbiamo un pensatore dobbiamo succhiargli come lui ha suggerito subliminalmente una sofferto percorso intellettuale filosofico il fatto delle tecniche giuridiche e dei diritti dal punto di vista legale sono un argomento che lui conosce perfettamente ma suggerirei e siete liberi di dimenticarvi questo suggerimento di tirargli fuori qualche cosa di umano anche prego buongiorno io studio giurisprudenza e mi sono mi sono accorto che sempre di più nell'ambito dell'informatica si passa come anche ha detto il professor Floridi si passa da un'idea di possesso che nell'ordinamento comunque nell'ambito giurisprudenziale è fondamentale perché diciamo l'esercizio della proprietà ad un potere nell'ambito informatico di accesso cioè il potere non è più il possesso dell'informazione ma è la possibilità di veicolare o meno l'accesso di conseguenza diviene proprietario fondamentalmente non chi ha il possesso bensì chi ha la possibilità di decidere l'accesso o meno e quindi volevo sapere un po' quali potrebbero essere anche le le ipotesi di nuova regolamentazione o comunque anche di modo diverso di pensare di insegnare anche nelle scuole a pensare diversamente quando ci si avvicina all'informatica grazie ancora una domanda e poi facciamo la prima buongiorno carola Bracci io volevo chiederle questa cosa secondo alcune statistiche in realtà i millennials quindi la mia e la loro generazione non avverte il problema della privacy affatto soprattutto su social network e social media questo in realtà non porta a un superamento di quella che è la problematicità del diritto all'oblio e quindi diciamo rivede il diritto all'oblio come un problema non problema almeno da questo punto di vista grazie allora domande tutte difficili tutte interessanti io non so quanto tempo abbiamo cercherò di essere veloce però magari poi mi fermo anche fuori in strada su questioni tecniche come passiamo dalla filosofia all'applegazione ci sono tre modi uno è con un cambio di cultura abbiamo appena sentito nella domanda ultima mi pare che si agganci bene cambia la cultura e questo cambiamento della cultura cambia anche i problemi con cui abbiamo a che fare cambiano le norme a volte le norme fanno anche più pasticci di quanto non fosse il caso ma siamo tutti umani le possiamo migliorare dicevo recentemente che l'unico modo di non sbagliare è correggersi e quindi l'importante è che ci sia l'apertura ma soprattutto cambia la tecnologia noi parliamo di questa tecnologia come se fosse matura ma non lo è cioè google twitter facebook ma ci hanno siano dieci anni ora dieci anni di tecnologia per chi ovviamente è abituato alle tecnologie digitali sembrano essere millenni ma per chi ha una visione un po' lunga dei tempi sono niente voi immaginate dieci anni nella storia dell'automobile o nulla rispetto a quello che poi è successo successivamente allora dobbiamo anche pensare che ci sono esattamente soluzioni di tipo tecnologico io se volete poi a un certo punto vi dico anche quali sono state esplorate le possibilità le alternative ora in questo caso si trattava semplicemente di applicare la decisione di una corte da un punto di vista semplicemente di cosiddetta in inglese compliance cioè si dice quello che la torte ha detto che bisogna fare punto però in termini di prospettive come giustamente lei suggeriva dove vogliamo andare a parare ma ci sono soluzioni tecnologiche interessanti ve ne faccio un piccolo esempio così capite che non stiamo parlando semplicemente di cose tirate in aria anzi due così sono potete fare una comparazione uno si può decidere che le informazioni che sono altamente a rischio di danneggiare sono legali ma danneggerebbero moralmente la persona in questione sono bloccate alla fonte si chiama robot.txt questo vuol dire che il search engine non le può proprio pescare fin abbiamo risolto alla fonte l'accessibilità di quell'informazione esiste ma non si prende la soluzione è tecnica oppure google da domani decide che tutte le informazioni di default arrivano in versione storica io non so voi ma in genere quando faccio una search su google non faccio search vado purtroppo con tutta l'altra fila cerco nell'ultima settimana e seleziono soltanto le informazioni nell'ultima settimana l'ultimo giorno 24 ore l'ultimo anno ma che me ne importa a me ad esempio di sapere qual è il ristorante migliore di torino e mi arriva una notizia vera nel 1985 dicevano che quindi metto torino ultima settimana ristorante migliore se google da domani già decidesse di dare tutte le informazioni in versione storicizzata ed è un click signori questo basta cambiare con un click l'interfaccia automatico di google uno dei problemi sarebbe già non risolto ma reso meno problematica quindi ci sono le possibilità questo quindi cultura norme e tecnologia potrebbero aiutarci molto in termini di interlocuzione l'interlocuzione se voi avete per caso la voglia di mandare una richiesta voi interlocui potete interloquire con un'interfaccia di una grande multinazionale molti di questi ragazzi e ragazzi stanno a Dublino o stanno a Santa Clara volete prendere l'aereo per andarli a trovare non credo quindi quello che avete a che fare mandate un modulo classicamente e questo modulo arriverà dall'altra parte ci vogliono mesi prima che questo modulo abbia il suo percorso però prima o poi vi risponderanno se rispondono che la rimozione è avvenuta bene e se la rimozione non avviene voi che cosa fate avete il diritto di rivolgervi o al al garante nazionale o al tribunale che fa le vesci del garante nazionale in quella nazione paese europeo che vai a differenza che trovi ma c'è questa seconda fase se poi anche lì non trovate soddisfazione e volete andare fino alla corte europea potete arrivare fino alla corte europea quindi ci sono in realtà tre passi Google garante e o tribunale nazionale poi corte europea la seconda domanda ha sollevato una questione enorme enorme l'abbiamo soltanto scalfita ieri durante la lezione quindi io non posso sicuramente dare una risposta vagamente decente quindi ne darò una indecente la mia risposta indecente è la seguente pronti perché è veramente stupida come risposta quindi non mi cita prendetela per una rispostina veloce siamo passati da una società che ha visto il potere sulle cose a una società che ha visto il potere sulle informazioni sulle cose a una società che sta vedendo il potere come l'esercizio del potere su la generazione delle informazioni sulle cose quindi dalle cose alle informazioni sulle cose alla generazione delle informazioni sulle cose siccome la generazione delle informazioni avviene attraverso domanda e risposta allora per semplicare ancora di più, e qui entriamo proprio nella cartonistica, nella roba da bar, quando si parla di informazioni si parla di una domanda più risposta. La capitale della Francia è Parigi? Sì. Rimuoviamo il sì, ci lasciamo soltanto la domanda, e quella domanda è un'incertezza. Qual è la capitale della Francia? È Parigi per caso? Risposta? Quella incertezza è dove si esercita il potere oggi. Allora, per ritornare a un livello di decenza, la morfologia del potere oggi è la morfologia dell'incertezza. Ci siamo intesi. Non sulle cose, non sulle informazioni delle cose, ma sulla generazione delle cose. Non era così stupida. Non era Europa, ma in Italia. E cioè che i millennials se ne fregano della privacy. Non è fattualmente vero. Controllate le statistiche che parlano dei millennials e dei teenagers oggi, e quello che trovate è che è cambiato il concetto di privacy. Cioè che la privacy, che un tempo si pensava essere così, è cambiata colà. Ma è cambiata, non è sparita. È un po' come il fatto che per i miei genitori baciarsi in pubblico era una cosa assurda e oggi dici qual è il tuo problema? Ma non vuol dire che loro avessero la privacy e io e mia moglie no quando eravamo ragazzetti. Avevamo sempre un senso diverso di privacy. Cioè ci sono aree di privacy che diventano molto più intense e altre che vanno a essere meno importanti. sicuramente la parte che concerne gli affetti più o meno eroticizzati tra noi hanno perso ulteriormente il senso della privacy. Ma non è che è la fine della privacy. È finito uno, il senso della privacy inteso come anonimità, roba ottocentesca da Sherlock Holmes. E due, il senso della privacy inteso come ci sono cose di cui non si può parlare. I soldi non è vero statistica alla mano. Cioè quando si tratta poi ad esempio di andare a vedere alcune delle cose rispetto alle quali i millennials tengono molto, ma allora la privacy torna. Cioè no queste sono le informazioni, perché te lo dovrei dire? Ma come mai? Che cosa ti interessa? Su questo ci vuole un po' di riflessione perché purtroppo chi è al potere non è un millennio. E i cinquantenni, i sessantenni, i settantenni e poi in Italia, lasciamo stare, ancora più antichi, al potere, hanno un concetto giustamente antico della privacy. E quindi quando vedono quel concetto sparire, pensano che sia sparita la privacy, invece di pensare che le cose cambiano e quindi la privacy oggi va declinata in maniera diversa. Quindi non vorrei essere, diciamo, aver dato una risposta abrasiva alla domanda della Minnelli in questione, ma non è che la privacy è sparita. L'abbiamo ricostituita in maniera diversa. E va compresa nella sua diversità. C'è lavoro da fare. Buongiorno. Io vorrei proporle questo pensiero tutto sommato banale che ho fatto mentre parlava e mentre parlava del fatto che il tempo non fosse, cioè la rilevanza del dato non dipendesse dal tempo. Su questo io non riesco a comprendere fino in fondo, forse non sono neanche troppo d'accordo. Se mio papà muore oggi, il fatto di rinverdire, come diceva lei, il suo ricordo domani o dopodomani potrebbe rappresentare un problema. Se questa cosa invece accade e fa 10-20 anni, il suo ricordo, il suo ricordo non rappresenta più un problema, perché io sono cambiata, il suo ricordo non suscita più in me una certa emozione, o almeno così forte come il giorno dopo, i due giorni dopo. Quindi se si pensa in questo modo, il tempo assume un'importanza fondamentale. Vuol dire che il tempo gioca un ruolo fondamentale sul concetto di rilevanza, a dispetto invece di quello che diceva lei prima. Sì, ha ragione. Temo quindi di, siccome sono d'accordo con lei, mi sa che mi sono spiegato male. Allora, la questione è questa, che non bisogna mettere due cose insieme come se fossero la stessa faccenda. Un conto è la rilevanza intesa come, guarda questo è importante ad esempio per prendere una decisione oggi, oppure è importante per decidere se la persona in questione deve essere inquisita oggi. Ma è una cosa che ha fatto negli anni 80, quando stava a Milano, costruiva, ecco non mi importa, è ancora rilevante, ci siamo. Ma è una cosa che facevamo andare al governo, acqua passata? No, è rilevante oggi, il tempo è irrilevante per la rilevanza dell'informazione. Ma è un tempo vero che per la sofferenza di quella particolare memoria? Il tempo, ovviamente, è una grande soluzione. Più passa il tempo, più quella sofferenza, noi speriamo, si faccia indebolita, meno acuta, diventa addirittura piacevole a volte, in certi momenti. Ora, come si fa a trasformare? Quindi lasciamo stare la rilevanza e il tempo, perché certe cose che sono avvenute tanto tempo fa, noi continuiamo a cercare persone per crimini nazisti, proprio perché il fatto che siano avvenuti decenni e decenni fa è irrilevante rispetto alla loro gravità e al fatto che debbano essere puniti. Però ha ragione perfettamente nel dire, ma allora c'è un rapporto tra rilevanza e tempo, sì che non è però con la rilevanza, è con la sofferenza che si vive nei confronti della rilevanza. La sofferenza che vive nei confronti della rilevanza può essere edulcorata, ingentilita, resa meno abrasiva dal tempo, se però il tempo viene gestito intelligentemente. Perché se il tempo viene gestito in termini di te la rinnovo nella sua intensità ogni giorno, è come quella ferita la cui crosta viene rimossa ogni giorno. Quella, la cicatrice, non la farà mai. E le assicuro che ci sono persone che quella cicatrice non la vogliono vedere. Ci sono persone che una volta innamoratesi di qualcuno, per il resto della loro vita, abbandonate da quel qualcuno, vorranno mantenere vivo il dolore di quell'abbandono e mantenere quel sangue che scorre da quella cicatrice e che non è mai avvenuta, da quella ferita sempre aperta. Allora il tempo va gestito. E quindi è un po', diciamo così, ingenuo dire, c'è un calendario, guarda sul calendario, si è passato tanto tempo, irrilevante, e non è più doloroso. Non è così. La rilevanza può avvenire in qualunque stato del tempo e la dolorosità o meno del suo ricordo avviene attraverso una gestione intelligente del tempo e non semplicemente in termini di, ma tanto passare al tempo me lo dimenticherò, ma se tutti i giorni tu ci piangi sopra, quello non te lo dimentichi più. Anzi, se vuoi poi si incrementa, si ingigantisce. E quello che sto dicendo in realtà è una cosa proprio da nonna papera. Cioè, un'idea molto semplice, che il tempo passa e aiuta. Se lo aiutiamo ad aiutarci, perché se il tempo non lo aiutiamo ad aiutarci, quel tempo che passa non farà nessuna differenza. E noi ci continueremo a scontrare per cose che sono avvenute veramente decenni fa in Palestina e decenni fa o addirittura ancora di più nel nord dell'Irlanda, scannandoci tra esseri umani per questioni di lana caprina. Perché? Perché siamo sempre lì a grattare, ad assicurarci che quel sanguesca, che quel dolore sia vivo nella generazione futura, non dimentichi i soprusi dell'altro e così via. Quindi, lei ha ragione, ma non confondiamo rilevanza e dolore nei confronti della rilevanza. Se no, non facciamo un passo avanti. Buongiorno. Io volevo chiederle invece se secondo lei lo scollamento tra l'identità reale e quella virtuale può comportare il processo di dimenticare le cose o se invece saremo più portati invece a nascondere le cose per far sì che la società virtuale percepisca solo quello che noi vogliamo che percepisca. Grazie. No, questa è complicatissima. Io partirei da una piccola premessa che spero non sia vista come un'obiezione. La distinzione tra reale e virtuale, tra online e offline non è più sostenibile. È quello che dieci anni di social media hanno reso obsoleta. Oggi si parla di on-life non è un errore di spelling. On-life. Ed è sbagliato parlare di offline-online come se la festa o fosse su Facebook o fosse a casa. La festa la organizzi su Facebook, mentre stai su Facebook la organizzi, mentre stai alla festa ci metti le notizie su Facebook. Cioè c'è una compenetrazione del reale e del virtuale che non vuol dire salto esagerato nei confronti. Allora è tutto la stessa cosa. No, non vuol dire neanche quello. Vuol dire che quando il fiume e il mare si incontrano, in quell'acqua un po' mescolata, chiedersi se l'acqua sia salata o dolce vuol dire non aver capito dove ci si trova. Alla foce del fiume è un po' salata, è un po' dolce. È l'acqua dolce che si incontra ancora salata. È questo il mondo in cui viviamo. Noi viviamo alla foce del fiume. Non viviamo né esageratamente a monte né del tutto a valle in ampio mare. Viviamo in quello spazio un po' di limite che oggi è un po' dolce e un po' salato, mescolato. Il che non vuol dire che non esiste più il dolce e il salato, di nuovo, non ci confondiamo. Non vuol dire che, ah ma allora tutto virtuale, tutto reale. No, ovviamente no. Ma vuol dire che quando io sto guidando una macchina che mi dice, la mia auto, con il GPS mi dice, gira di vista, vai sotto, vai sopra. Sono online, sono offline. È una domanda stupida. È una domanda anni 90. Cioè vuol dire che non hai capito. Non hai capito dove ti trovi. Allora, avendo capito dove ci troviamo, la sua domanda diventa, ma in questa foce del fiume, in questo posto un po' al limite dove è un po' salato e un po' dolce, un po' online, offline, ma si mescolano, sono tutte e due lo stesso, la memoria è qualcosa che siamo invitati a far crescere o a far decrescere? Ecco, io questo qui penso che sia veramente una questione di educazione, cioè di nostra, nostra di utenti. Da un lato le tecnologie che noi stiamo sviluppando, noi umanitari, sono altamente, come si dice, addictive in italiano? Come le droghe. A sue facenti. Creano dipendenza. Creano dipendenza, benissimo, preciso. Creano dipendenza, sono addictive. Cioè noi abbiamo creato delle tecnologie che sono esattamente il equivalente di dolcetti dati a ragazzini obesi. È irresponsabile. Se vuoi leggere Aristotele, ci definisci come animali sociali, e tu cosa dai a un animale sociale? La possibilità di socializzare sempre di più gratuitamente. Ma quello diventa obeso di socialità, ovviamente, è fatto così. A noi ci piace chiacchierare, ci piace dire, guardate adesso, bla bla, 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 bla. E tu gli dai di più, più possibilità di buona, bla, bla. E stiamo tutti lì su Facebook a dire scemenzi, uno dopo l'altro, Twitter, non se ne può più, c'è zilioni di roba. Allora, è questa tutta la storia. Non è tutta così, però. Perché c'è poi la dieta, c'è il momento di resipiescenza. Quello che dice, forse tutto questo tento su Facebook non era utile. Non che non ce lo debba passare, ma ce ne posso passare un po' di meno in maniera più intelligente, più utile. La gestione delle mie memorie è qualcosa che posso fare in maniera molto più acuta sapendo quello che sto facendo. Io vorrei sapere quanti tra di noi, io sono il primo colpevole, gestisce effettivamente bene Facebook, con tutte quante le differenziazioni. Questa la posso solo per gli amici, questo nel circolo piccolo, circolano. Ma che tutto, tutto dentro, vai, vai. È normale, siamo pigri, eccetera. Però siamo obesi. Allora, la risposta che io le darei è di moderato ottimismo. Al momento ci hanno regalato i dolcetti e non ci è sembrato vero. E li stiamo mangiando uno dopo l'altro, diventando veramente un po' cicciottelli. Però tra un po' ci stiamo... Anche questa conversazione ci aiuta a dire, forse magari, tutta sta cioccolata è buona, sì, però diamoci una regolata. Ecco, io penso che i social media stiano arrivando alla fase del diamoci una regolata. Vorrei che avvenisse, mi auguro che avvenga, senza la solita modalità in cui le cose avvengono nella storia umana, cioè attraverso un disastro, dopodiché noi ci ripensiamo. Può darsi che una volta tanti impariamo la lezione lentamente. Diciamo, ma guarda, allora adesso da oggi in poi si possono fare cose diversamente, più intelligenti e così via. Sarei di nuovo moderatamente ottimista. Piccioli Simone, Liceo Copernico. L'articolo 13 della Costituzione italiana sancisce la libertà personale di ogni cittadino come un diritto inviolabile. Considerando il complesso rapporto tra privacy e informazione, è possibile definire quello tra libertà e sicurezza? Non ho capito. Me lo dica piano, senza timore. Allora, l'articolo 13 della Costituzione italiana sancisce la libertà personale di ogni cittadino come un diritto inviolabile. Va bene, e fin qui ci siamo... Considerando il complesso rapporto tra privacy e informazione, è possibile ridefinire quello tra libertà e sicurezza? Adesso ho capito la domanda, ma non ho capito il contenuto. Cioè, stiamo cercando di vedere un rapporto tra privacy... Allora, questa... Ho capito adesso, c'è il traduttore, grazie. Ho detto, è giusto? È giusto, è così. Quindi, se bisogna privilegiare la sicurezza, soprattutto quella nazionale, insomma, della società, a sfavore della privacy. Allora, ci sono momenti nella storia in cui questo avviene. Avviene per ragioni seri. C'è una guerra, ad esempio, e durante la guerra, ad esempio durante l'ultima guerra mondiale, alcune informazioni non potevano essere condivise e una certa privacy doveva essere limitata. Ma sono ragioni gravi, gravissime. Perché quello che si sta alledendo è uno dei fondamenti principali dello Stato in cui noi vogliamo vivere, cioè una società liberale e democratica in cui vogliamo vivere. Allora, assumendo che uno viva in uno Stato liberale e democratico, andare a inficiare, a mettere, a picconare uno dei capisaldi, che è quello della privacy del cittadino, ci devono essere ragioni immense, gravissime per farlo. E lo si fa per un certo periodo. Cioè, bisogna dire ai cittadini, se è una situazione di crisi gravissima, e per la prossima settimana, per i prossimi sei mesi, purtroppo dovremo inserire questo limitato numero di operazioni che vanno, purtroppo, a toccare la vostra privacy. Ora, questo è un accordo che si può fare con i cittadini, che i cittadini possono fare tra di loro, ed è una cosa eticamente fattibile. Non è quello che avviene oggi. Ci siamo. Non sto dicendo che, ah, e questo è la NSA, è quello che fa. No. Quello che avviene oggi è esattamente l'opposto. Cioè, sì, ci si scorda dell'accordo sociale con i cittadini, e si fa una sorveglianza di massa, quindi togliendo sostanzialmente la privacy dei cittadini, in nome di una ipotetica sicurezza nazionale, che in realtà poi non è così gravemente l'ESA come ci si fa credere. Io spero che non sarete scandalizzati dal seguente ragionamento. È un ragionamento accademico, quindi tenetevi un po' seduti forti, ma insomma si fanno anche questi ragionamenti. quanti morti giustificano una guerra? Quante bombe a Londra giustificano una guerra in Afghanistan? Se voi fate questi conti, se voi siete così brutalmente capaci di dire tanti morti qui, tanti morti lì, quanti morti vuoi? Ecco, l'ultima guerra che la Gran Bretagna ha fatta in Afghanistan è un disastro. Potevamo avere tante bombe, tante, a Londra, a Edimburgo, a Liverpool, a Oxford, e non avremmo mai avuto tanti morti, quanti ne abbiamo avuti in Afghanistan. Allora, quando si parla di sicurezza, bisogna stare attenti, perché il livello di danno che si sta facendo alla società è talmente enorme, andando a toccare la privacy del cittadino, che è bene che ci sia qualcosa di realmente mostruoso che sta per avvenire. Altrimenti, sentirsi dire dopo ah, ma i servizi francesi sapevano esattamente chi erano quelli che hanno fatto l'attacco terrorista a Parigi, e che cosa hanno fatto su questo? Nulla. Ah, ma i servizi, dobbiamo avere tutte le informazioni alla faccia dei cittadini, perché poi qualcosa potremo fare. No, grazie. Lasciate che qualcosa avvenga. Ora, questo ragionamento, purtroppo, che non si può fare politicamente, ha una sua conseguenza, che sarebbe quella, da parte del politico, di prendersi la responsabilità del rischio. Il rischio che qualcosa di talmente grave avvenga quando tu hai detto, signori, non vi tocco la vostra privacy. Poi una cosa terribile avviene, e sapete cosa succede? Noi. che l'altro ieri dicevamo, la nostra privacy non la toccate. Domani, quando qualcosa di brutto avviene, ce la riprendiamo con quel politico, e lo mandiamo a casa, perché si è preso la responsabilità di far sì che la nostra privacy fosse protetta, e i database non venissero toccati. Allora ci dobbiamo essere d'accordo noi, noi società. I politici alla fine sono sempre un più o meno brutto, sporco specchio di noi. Se noi siamo disposti a prenderci la responsabilità civile, morale, di dire vengano pure, ci uccidano. Non riusciranno a farci autodistruggere i nostri fondamenti etici. Siamo pacifisti. Stiamo qua e ci facciamo ammazzare. Venite pure. Questa è una posizione morale di tanto rispetto. E questa difende la privacy. Ma l'ipocrisia di dire io vorrei essere tanto sicuro e tanto tranquillo, però vorrei avere anche la privacy, quella è insopportabile. Perché è quel bel sepolcro imbiancato che vuole tutto e il contrario di tutto. La vera difesa della privacy si fa con l'accettazione del rischio e lo si fa da un punto di vista sociale dicendo noi siamo come società disposti a esserci, a farci massacrare a terroristi assolutamente assurdi e pazzi pur di non inficiare i fondamenti della nostra civiltà. Questa è una posizione di tanto di cappello. Non vedo nessuno che sia in grado di prenderla oggi nella nostra Europa. Però mi piacerebbe come tentativo. Buongiorno, mi chiamo Pasquale Pellegrino. Due questioni. La prima riguardante il discorso sulla rilevanza. Oltre a che ad essere influenzata da un fattore di tipo temporale, c'è la rilevanza sempre a essere condizionata anche da una questione di significatività delle relazioni. Ovvero nel caso specifico del signor Costeca Gonzales se io non lo conosco, se non è una persona rilevante per me che interesse dovrebbe avere lui a far sì che quell'informazione che lo riguardi sia tolta dall'identizzata da Google al fine che non si conosca. In relazione a questo che paradosso è? Si crea un paradosso nel cercare di cancellare un'informazione che poi è stata ripresa comunque da tutti quanti un'altra serie di media e quindi riportata come notizia fondamentale. C'è che senso ha togliere una cosa e cercare di dimenticarla per poi farla riportare e essere stata riportata da diversi giornali. Grazie. Allora la seconda domanda è la più facile. Trovate su Wikipedia se voi ci fate una ricerca il cosiddetto Streisand da Barbara. Streisand Effect cioè l'effetto Streisand è un effetto che è emerso quando la cantante l'artista in questione ha scoperto che alcune fotografie erano state prese di una sua villa erano state prese per diverse ragioni geografiche di nessun conto e ha denunciato il giornalista che le aveva presi aveva scattato queste foto. Il giornalista è andato in tribunale tutta questa questione ha raggiunto i mass media e all'improvviso queste foto le hanno viste tutte e quindi ha avuto esattamente l'effetto opposto quello che era un effetto di protezione della privacy all'improvviso è stato un effetto di mettere in mostra esattamente la villa dove stava i contorni eccetera questo effetto è pericoloso e la risoluzione che è stata trovata abbiamo trovato con Google è la seguente se voi fate una ricerca su Google su un dominio di tipo europeo troverete con nome e cognome magari il vostro o quello del vicino o di mamma e papà ci sono due possibilità o voi alla fine della prima pagina trovate la dicitura alcune informazioni potrebbero essere state rimosse secondo la legge eccetera questo significa che Google ha deciso che la persona in questione con il nome e cognome non è una figura pubblica siccome non è una figura pubblica c'è la possibilità che alcune informazioni non siano state rimosse questo protegge tutti perché vuol dire che io non so se Mario Rossi effettivamente ha fatto richiesta di avere informazioni rimosse io so soltanto che Mario Rossi non è una figura pubblica e quindi forse potenzialmente ha fatto richiesta di avere dei links rimosse se invece alla fine della pagina non trovate nulla vuol dire che quel nome e cognome è considerato una figura pubblica alla quale non è permesso al momento di avere links rimosse da informazioni online la cosa bella è che chi decide chi è o chi non è una figura pubblica Google lo decidono loro sulla base delle informazioni che sono in grado di raccogliere perché non c'è altro modo al momento di decidere di nuovo autogol del nostro sistema sul primo problema della rilevanza il problema della rilevanza è difficilissimo da risolvere provate il seguente esperimento se voi state all'aeroporto e c'è un costante flusso di informazioni sugli aerei che partono l'aereo per Bologna oppure al treno la stazione del treno molta di quell'informazione è del tutto irrilevante quando è che diventa rilevante questo è il mio volo il mio aereo quando la domanda diciamo teorica che voi avete in mente quando parte il treno da dove parte viene ad avere una risposta da quell'informazione quella clicca con voi ma allora quell'informazione è rilevante perché ha coglie un vostro fine allora è sempre il fine che determina una domanda io ho un partito di fine voglio arrivare a Bologna faccio quindi una domanda da dove parte il treno per Bologna quando? quando arriva l'informazione l'informazione è rilevante sulla base di quel fine perché se il fine cambia voglio andare a Milano quell'informazione non risponde più a quella domanda e quella informazione è irrilevante tutto quel noise quel rumore di fondo allora la differenza tra rumore di fondo e informazione è se rientra o non rientra nel fine per il quale sto facendo la mia domanda quindi quando lei dice significatività è esattamente questo cioè qualcosa diventa significativo per me nella misura in cui ha a che fare soddisfa un bisogno orientato da un fine ma siccome i bisogni e i fini cambiano costantemente è letteralmente impossibile determinare se una informazione è o non è irrilevante in assoluto indipendentemente dal fine della domanda ma questa è una sciocchezza cioè io potrei essere ad esempio un business americano e dire vorrei fare un business con qualcuno c'è un avvocato vorrei vedere se è affidabile fammi un po' cercare oh accidente questo qui non ha pagato debili gli hanno ignorato la casa poi ha fatto tutto sto casino su google mi pare che forse me ne sto lontano rilevanza tanta pure certo se sono Luciano Flori che vuole andare a fare una vacanza e mi viene fuori queste informazioni è noise di fondo cioè è rumore rumore informazione il tentativo che è stato fatto di appiccicare di incollare la cronologicità della informazione in termini di rilevante oppure no a seconda di quanto è vecchio è sciocco significa non aver capito la logica della rilevanza della temporalità della domanda e della risposta del fine verso il quale questa significata diventa significativa cioè proprio vuol dire essersi affidati a dei pellegrini che non hanno idea e questo è un peccato perché il livello è alto qua di discussione purtroppo i compromessi devono essere fatti e questo è stato fatto l'ho firmato anch'io quindi dei pellegrini ci sta anche il sottoscritto Davide Stagnati dell'Iceo Copernico Quarta lei prima ha parlato dello scontro tra diritto alla privacy e diritto all'informazione discutendo anche delle varie cose che giocano in questo scontro ma anche facendo di nuovo riferimento al signore spagnolo quello della casa in un certo senso le informazioni a meno che non siano vabbè poi false o cose simili in realtà quel signore che aveva la casa con i debiti questa cosa non è che avesse veramente senso toglierla perché io comunque come persona che vuole sapere qualcosa di questa persona comunque avevo diritto di sapere che questa persona ha avuto tali problemi da non potersi tenere più la casa al massimo potevano fare che oltre a quella informazione mettevano anche quella che poi è riuscito a ripagarsela non si potrebbe fare una cosa del genere semplicemente si lei ha toccato un tema con il quale abbiamo iniziato cioè quali sono i passaggi dalla filosofia poi alle soluzioni cioè che cosa si può fare in pratica effettivamente una delle soluzioni che tra l'altro Google ha già sperimentato non ha funzionato bene quindi non sappiamo bene se questa cosa potrà avere in futuro però stiamo parlando di tecnologia in sviluppo è quella di annotare i search cioè uno fa un search fa una ricerca vede che escono alcune voci e poi dichiara guarda io sono il proprietario o sono la persona alla quale questa informazione corrisponde e ho una correzione da fare questo quasi stile Wikipedia uno va online dice no attenzione qua c'è da fare un aggiustamento poi ovviamente c'è qualcuno che controlla c'è un sistema ci sono diciamo un paio di problemi tecnici seri nel senso di identità bisogna essere sicuri che non sia la tua ex moglie ad andare lì a correggere le cose perché magari non è simpatica ve la sicuro non è simpatica parlo per ragioni personali e quindi bisogna fare attenzione devi essere tu come fai a essere tu non sarà mica poi una questione di dare nome cognome identità a Google perché allora rientriamo nel ciclo allora è sempre più potente sono loro che decidono chi sei chi non sei quindi ci deve essere una soluzione si possono trovare soluzioni quindi non voglio sollevare problemi bisogna soltanto essere consapevoli che non è facile ma ammettendo che sia facile che si trovi una soluzione e ci sono tantissime ci sono soluzioni di identità attraverso terzi insomma la tecnologia qui aiuta tantissimo una volta fatto questo c'è un grande vantaggio non soltanto quello che lei giustamente metteva in luce di correzione di un fatto che può essere di disturbo ma soprattutto tutto quel materiale mi dicevano 35 40 100 milioni di barilloni di roba ma molta di quella è ciarpame ma se tutti noi cominciassimo a fare un po' di crowdsourcing come si direbbe in maniera fichetta a migliorare quello che è online ma non soltanto sabbi la pelle al povero cristiano che insomma alla fine non si trova sempre messo l'incroce sulla stessa informazione ma soprattutto si migliora la qualità dell'informazione online quindi sarebbe detta l'inglese di nuovo un win-win cioè doppia doppia operazione con un fatto solo io la vedo bene cioè è una modalità che tra l'altro sulla quale io stesso ho argomentato a favore si potrebbe andare in questa direzione serve uno sviluppo tecnologico all'altezza ci possiamo arrivare buongiorno mi chiamo Solal Trogu sono un studente francese ci diceva prima sul valore della memoria che alla differenza del petrolio la memoria non aveva rivalità ma mi dicevo giustamente che questi tempi con tutti i problemi di dati personali c'è una vera adesso guerra economica sui dati personali che sono il futuro della memoria era per sapere che pensava di questo sì grazie questo tema è importante allora questo bisogna ricordarlo a chi di noi non ha i capelli bianchi la memoria storica europea nostra attuale vede persone in giro che come ad esempio mio padre ha visto carri armati americani e tedeschi a Roma quando parlo di conflitto è quello che ho in mente spero che almeno più giovani questo non sembra una banalità voi immaginate Torino con i carri armati americani e tedeschi in piazza questo è quello che ha visto l'Europa l'altro ieri questi sono i conflitti con cui noi abbiamo che fare l'Ucraina ce lo ricorda ogni giorno la Jugoslavia è di nuovo è veramente in memoria storica allora quando dico è una risorsa rispetto alla quale si può essere condivisione senza esclusione io non mi devo alienare questo oggetto per potertelo dare se do una mela a te ce l'hai tu non ce l'ho io se ve lo dico un'altra volta tra l'altro giustamente la prendete come un insulto è banale come banalità il fatto che si possa condividere l'informazione senza doversene privare questo sposta il genere di conflitti e parlare di conflitti online da un punto di vista business non vi fate confondere in idea non sto parlando di cyber attacks di guerra digitale quella è un'altra storia parlare oggi di conflitti ad esempio per il possesso di profili di utenti è utilizzare metafore un po' robuste quando poi vai a vedere a che cosa le stai comparando non si vorrà mica dire che qui la scalata che uno può fare all'HP oppure a Yahoo sia la stessa cosa della presenza di carri armati americani tedeschi a Roma signori è importante avere le idee chiare allora va benissimo è importante capire che la conflittualità essa stessa dinamicamente si evolve la metamorfesi per fortuna diventa un po' meno violenta fondamentale alla base del nostro modo di operare oggi la società dell'informazione è fatta di conflitti informazionali sì non sono la stessa cosa che avere conflitti dove se ce l'hai tu il petrolio non ce l'ho io e quindi ti mando le portaeree quella è un'altra conflittualità sulla quale io spero ci sia in grado di distanziarci sempre di più allora su questo ecco un chiarimento è benvenuto grazie la domanda la domanda è questa finora abbiamo parlato di togliere una notizia la mia domanda è possibile è in previsione invece la possibilità di integrare la notizia mi spiego meglio se c'è una condanna c'è lo scoop giornalistico esce su tutti i giornali su tutti i mass media o una persona indagata dopo di che viene assolta non esce nessuna notizia quindi su google non appare a questo punto all'utente basterebbe aggiungere la notizia guardate che in riferimento a quell'indagine sono stato assolto e questo risolverebbe anche il problema della libertà di informazione e della tutela della verità dell'informazione io direi che dobbiamo anche parlare di verità dell'informazione perché purtroppo lo scoop giornalistico deforma la verità pur essendo una notizia tecnicamente vera se su questa è la risposta che ho dato precedentemente cioè le possibilità tecnologiche ci sono per fare esattamente questo cioè far sì che uno possa migliorare l'informazione online in modo che sia più corrispondente alla realtà di quanto noi oggi non siamo in grado di fare noi viviamo ancora il miracoloso ottenimento di informazione online con un click ma chi si ricorda alta vista e soltanto il giorno precedente essere in grado di trovare tutto online in un click è una magia che questa magia possa essere migliorata è sicuro questa è una direzione in cui si può migliorare sicuramente c'è la possibilità di far sì che gli utenti siano copartecipi al miglioramento dell'informazione online esattamente nel modello che abbiamo già visto su wikipedia richiede però regolamentazioni un po' strette se no il casino che si può creare è infinito peggio ancora dell'attuale del quale non siamo particolarmente soddisfatti quindi sì ma con cautela festina lente disse il liceale mi sembra che siamo arrivati in fondo al percorso con questa battutona poi latina proprio io ho l'impressione che proprio con questo spirito aperto a passare dal commento a Platone alla commentabilità dei link su google abbiamo visto che Luciano ci accompagna con grande umanità in questo cambiamento significativo che sta succedendo alla nostra società non sarei troppo convinto che il fatto di essere millennials renda le persone diverse totalmente sicuramente il problema umano e la decisione umana di fronte all'automatismo diventerà un fenomeno sempre più scelto responsabile e importante non andiamo a domandarci cose troppo complicate le abbiamo già vissute la crisi finanziaria è una crisi di automatismi ne stiamo soffrendo davanti a noi c'è di peggio se non assumiamo questa responsabilità di decidere di pensare di conoscere umanamente questo genere di temi sui quali ci stiamo avventurando con ottimismo con costruttività sapendo che possiamo farcela grazie grazie a voi grazie